Mi sa proprio che ho capito, dottor Frankenstein, ma perché? Non è il suo posto qui, e non può andare in giro a prendere tutti i morti che trova, e poi prova a risuscitare, no, una volta che sono qui, sono qui. Il lavoro. Joe, e tu l'aiuti? Dottor Frankenstein, non può, dottore, non può fare l'esperimento qui. Joe, attenti di metterlo stipendio. No, dottore, è utile che fa finza di dirti, io lo so cosa vuol farlo. Io lo so. No, 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 non si può. Che fa? Mi capi. Dottore, allora, dica qui. Qui c'è un cartello, pericolo, alta tensione. Non può farlo qui dentro, capisce? Non può. È molto semplice. Joe. Joe, ma cosa fai? Ha visto? Ecco, ecco, non funziona. Ha visto? Ma è come le altre volte. Cosa pensa? Che capi? Lei non può importare in vita qualcuno. Non può. Ma è come le altre volte. Ma è come le altre volte. Ma è come le altre volte. è fatto meglio è fai per me è fai per me è fai per me la sensazione di un po' di gli stai è fai per me Dressed up like a million dollar trooper Trying hard to look like Gary Cooper Come let's mix Barack Obama There's war pistachio A rumpa run There's sitting eggnots For me Go 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 Va bene, devo dire che questa volta è successo veramente qualcosa di straordinario, dottore, non ci credevo neanche io. Va bene, ma sì, sì. Va bene, le consento di portarselo via. Usa qua, va da solo.